Delle condizioni nuove, delle visioni nuove, delle possibilità altre rispetto a quelle conosciute già. Partire da noi stessi per creare qualcosa assieme agli altri colleghi e al paziente. Il taglio umanistico completo di questo approccio, che ci porterà molto, molto lontano. Il dito sarebbe ai colleghi col camice e di spogliarsi del camice, cioè di tutte quelle sovrastrutture, di quelle paure o convenzioni alle quali si sono abituati negli anni. La possibilità di mettermi in contatto con contenuti nuovi, con persone nuove, su un piano diverso. C'è molto fermento, c'è molta energia, energia creativa e voglia di fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.